Qui con Federico e Manuel, com'è andata questa partita? Bene, potevamo certamente andare meglio la mia squadra, però abbiamo fatto comunque una bella partita. Io, il ragazzo lui che ha fatto una grande partita, io ho fatto un bel gol, la squadra ha giocato bene, un tocco, un bel gol l'ha fatta anche il mico. Tattica che è servita, avete vinto infatti, e com'è stata questa partita? Bella, con battuta, grinta, fine. Per voi invece? Molto bene, solo tranne il finale che ci siamo un po' energositi perché stavamo comunque regga al sotto. Invece per la prossima partita che cosa vi aspettate? Beh, noi siamo fuori. Ah, beh, allora vabbè, se ci siete la mano allora.